e non c'è niente da fare perché è vero che fa caldissimo è vero che fa super caldissimo in questo studiolo ma non riesco proprio a stare senza di te e allora eccoci qua di che cosa voglio parlarti oggi ti voglio presentare 5 nuove funzionalità di google chrome che vanno assolutamente implementate quanto prima anche nel tuo perché dico nuove in parte perché si tratta effettivamente di nuove funzionalità in secondo luogo perché alcune di queste sono state prima soppresse e poi reintrodotte dopo essere state migliorate e reingegnerizzate e soprattutto sono nuove perché non ne abbiamo mai parlato prima ti premetto che queste funzionalità possono essere attivate sia su google chrome normale che sulla versione canary che abbiamo presentato un paio di video fa e allora non perdiamo neanche un altro secondo rimbocchiamoci le nostre maniche inesistenti e se ti senti pronto iniziamo quelle che stiamo per scoprire insieme sono 5 funzionalità di google chrome nascoste all'interno dei suoi flags che ci consentono di aumentarne sicuramente la velocità ma anche la sicurezza la privacy e di aggiungere una funzionalità che personalmente trovo estremamente utile per implementarle la prima cosa che faremo sarà naturalmente aprire il nostro google chrome e successivamente portarci in alto a destra sui tre puntini verticali cliccarci su e portarci sulla voce guida e successivamente su informazioni su google chrome per accertarci che il nostro chrome sia aggiornato come vedi in questo caso lo è qualora il tuo non lo fosse verrà aggiornato automaticamente ok adesso che siamo certi che il nostro google chrome è aggiornato all'ultima versione disponibile quello che dobbiamo fare è portarci qui in alto nella barra degli indirizzi e sostituire questa scritta qui con la scritta chrome due punti doppio slash flags fatto questo premiamo il tasto invio e ci troveremo nella sezione dei flags portiamoci qui in alto dove c'è scritto search flags e andiamo a digitare questa stringa enable quick scritto proprio così senza il k finale ebbene quick è il nuovo protocollo di google che consente di rendere più veloce ed anche più sicura la nostra navigazione una volta digitata questa stringa comparirà il relativo flag per andare ad attivare questa nuova modalità di google dovremo fare click su questa tendina a discesa e selezionare naturalmente la voce enabled una volta effettuata questa operazione ci comparirà in basso a destra in questo momento è coperto dalla mia immagine ma te lo faccio vedere eccolo qui il pulsante riavvia non sarà necessario ancora riavviare chrome perché andremo ad apportare ulteriori modifiche e riavvieremo solamente al termine e infatti quello che dobbiamo fare è tornare qui in alto nella barra di ricerca cancellare la ricerca precedente e sostituirla con il termine anonimize ecco qui che ci comparirà questo nuovo flag che si chiama anonimize local ips exposed by web artisi mamma mia cosa significa questa sigla così complicata significa che andremo ad anonimizzare quindi rendere anonimi i nostri indirizzi ip ovvero l'indirizzo del nostro computer nelle applicazioni web artisi cioè le applicazioni web di comunicazione in tempo reale quali sono queste applicazioni sulle quali siamo vulnerabili se non andiamo ad attivare questo flag è presto detto puoi pensare a facebook puoi pensare a whatsapp web puoi pensare a zoom puoi pensare a skype e così via ovvero a tutte quelle applicazioni che ci servono tramite google chrome a comunicare in tempo reale naturalmente ancora una volta andremo sulla nostra finestrella a discesa e sceglieremo la voce enabled nuovamente ci verrà proposto di riavviare il nostro computer ma ancora una volta soprassiederemo perché abbiamo ancora dell'altro da fare infatti torniamo subito sulla barra di ricerca cancelliamo la ricerca precedente e al suo posto andiamo a digitare one time ed eccolo qui il nostro flag ma di cosa si tratta ebbene hai presente quando utilizzi proprio le applicazioni di cui abbiamo parlato e quindi vari skype zoom whatsapp web facebook e così via nel momento in cui hai bisogno di utilizzare il microfono e ho la webcam ti compare una richiesta come questa nel momento in cui queste applicazioni vengono autorizzate all'accesso di queste periferiche la tua autorizzazione è permanente ma questo può essere sfruttato da alcuni malintenzionati per riuscire tramite le tue stesse periferiche a spiarti e allora che cosa si fa andiamo ad attivare come ti sto mostrando in questo momento questo flag che farà invece comparire una richiesta simile a questa in cui andremo a dire a google chrome che ogni volta che qualche applicazione vuole accedere alle nostre periferiche anche se è stata già autorizzata prima dovrà essere nuovamente autorizzata manualmente da noi certo è un pochino più scomodo ma si tratta solamente di un click eventualmente da ripetere le volte che ci serve ma che ci mette veramente al sicuro e passiamo al prossimo flag per trovarlo andiamo in alto nella barra di ricerca e scriviamo questa volta heavy ad ed eccolo qui ma di che cosa si tratta ebbene potremmo definirlo amichevolmente oltre al danno la beffa infatti non solo gli annunci pubblicitari che ci compaiono possono essere estremamente noiosi ma talvolta possono essere particolarmente pesanti e andare a rallentare la nostra navigazione e farci consumare inutilmente della banda andando a controllare che sia attivo questo flag e quindi portandoci sulla tendina a scorrimento e selezionando enabled anche se di base dovrebbe essere già abilitato su chrome saremo sicuri che tutti questi annunci pesanti vengano mitigati da chrome stesso incredibile ma vero e veniamo all'ultimo flag di oggi che si chiama tab scrolling dopo averlo digitato nella casella di ricerca come abbiamo fatto anche con gli altri flags ci compariranno diversi risultati ma quello che interessa noi è il primo ovvero quello che si chiama semplicemente tab scrolling tuttavia questa volta quando andremo ad attivarlo vedremo che saranno presenti più scelte diverse io solitamente preferisco questa qui enabled tabs don't shrink ma a che cosa serve questa funzionalità che abbiamo appena attivato ebbene te lo spiego tra un istante ma a questo punto visto che abbiamo terminato andiamo finalmente a premere il pulsante riavvia per applicare tutte quante le modifiche che abbiamo fatto ok chrome si è riavviato e come vedi nella pagina flags ci mostra con un pallino tutte quante le funzionalità che abbiamo appena attivato ma torniamo al nostro tab scrolling che è una funzionalità che ti serve se come me hai l'abitudine di tenere tantissime schede aperte come ben sai infatti chrome nel momento in cui ci sono troppe schede aperte sul browser inizia a rimpicciolirne le dimensioni fino a quando i titoli ovvero i nomi delle varie schede non sono più leggibili e questo crea una notevole difficoltà a chi ha bisogno di spostarsi agevolmente tra questo marasma di schede attivando quest'opzione invece la dimensione delle schede non verrà ridotta ma nel momento in cui la pagina dovesse giungere a saturazione verranno creati dei comodi pulsanti come questi che ti consentiranno di spostarti agevolmente tra tutte quante le tabs aperte sul tuo browser e bravo chrome devo dire che questi flags mi sono piaciuti parecchio ma il mio parere ha poca importanza perché sarei piuttosto curioso di sapere che cosa ne pensi tu e quindi nel momento in cui dovessi provarli se avrai voglia di farmi sapere nei commenti cosa ne pensi te ne sarò particolarmente grato ma veniamo un attimo alla nostra community perché stavo facendo degli insani progetti ebbene sì come ben sai durante il mese di agosto la nostra programmazione diventa un pochino più rarefatta ma pensavo su questo canale di garantire almeno un video a settimana che uscirà sicuramente caschi il cielo ogni domenica ma questo ci porta ad un problema con il secondo canale il nostro canale segreto il lato oscuro che è talmente segreto che te lo linko ovunque te lo lascio anche nella descrizione di questo video ebbene sì perché sul canale segreto i video escono al lunedì e questa sovrapposizione domenica lunedì mi dava da pensare e avevo appunto ipotizzato di spostare i video del lato oscuro al mercoledì in modo da non sovrapporli eccessivamente con quelli del canale principale e veniamo ai ringraziamenti del giorno che quest'oggi sono la bellezza di due il primo va ad augusto bonanni che si è appena riabbonato al nostro canale e quindi caro augusto cosa posso fare se non ridarti nuovamente il benvenuto a bordo della community dei gentiluomini e il secondo ringraziamento invece è quello dedicato proprio esplicitamente a te che hai guardato questo video mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e detto questo non mi resta che salutarti ma non prima di averti dato appuntamento alla prossima